Questa sera è una sera particolare, un concerto molto particolare, perché l'area archeologica sarà intrisa di atmosfere medievali. Abbiamo un duo che viene direttamente dal Brasile, per la prima volta in Italia, per la prima volta in Campania, e questo grazie a uno scambio, grazie a un progetto internazionale di scambio culturale, che si chiama appunto Espirito Mundu, la cui presidente Aline Yasmin, io ringrazio particolarmente, non è qui, è a Bruxelles, e ci regala questa opportunità. Il duo acustico che andremo ad ascoltare, neo-folk e neo-medievale, nasce in Brasile nel 2001, e sono formati da due musicisti, lui è Marcello Miranda, è lui che scrive, compone, suona la chitarra, il mandolino, la sedra e sarango. Lei è Fernanda Ferretti, è voce, è chitarra. La loro opera è originale, i brani prendono ispirazione da atmosfere medievali, rinascimentali. Il nome è cabalistico, ma può essere tradotto come mondi infiniti. Offrono uno spettacolo carico di magia e fantasia, riesumando i valori dei nostri antenati, ed è un'autentica riconnessione con l'universo. La loro arte non si ferma soltanto al momento musicale, ma comprende anche altre forme d'arte, come la letteratura, le arti visive e la danza. Nel 2015 suonano per la prima volta in Spagna e in Portogallo, come prima band brasiliana, e partecipano al Festival Volksselta Ponte da Barca. Signore e signori, accogliamoli con un grande applauso, loro sono il duo Lam Einzhoff. Buonasera, siamo il duo Lam Einzhoff in Brasile. È un piacere per noi essere la prima volta in Italia. Vi invitiamo a viaggiare nel nostro mondo dell'infinità. Grazie. 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 Grazie.